credo che il fumo che abbiamo appena visto venisse da qui un'altra fotografia di roberto bigano questa volta in italia il luogo è valli del mincio in provincia di mantova questo scatto è già splendido così com'è e il problema quando abbiamo a che fare con immagini di simile qualità è che possono avere bisogno di piccoli miglioramenti ma non di azioni pesanti che sono spesso paradossalmente più facili da mettere in atto questa immagine è molto più grande di quella precedente tra l'altro dal momento che ha circa 4000 pixel per lato quindi ci aspettiamo di ottenere dei buoni risultati con raggi grandi o relativamente grandi anche perché il vero soggetto della fotografia a mio parere è il fumo che non contiene dettagli fini ma che potrebbe beneficiare se riuscissimo a dargli più forma e plasticità ho preparato un file contenente tre livelli alce quello più in basso ha un raggio enorme pari a 350 il massimo raggio disponibile in questa versione subito sopra alce 200 con il massimo raggio disponibile nella versione precedente infine alce 40 diamo un'occhiata raggio 350 un effetto molto interessante mentre passo dalla versione processata all'originale vi chiedo di notare come tutto sembri illuminarsi come i riflessi sull'acqua siano più pronunciati e come la nube di fumo diventi molto più drammatica e realistica raggio 200 un risultato molto simile che però preferisco il fumo ha un aspetto migliore e anche l'acqua specialmente in quest'area proviamo a confrontare questo è 350 e questo è 200 di nuovo questo è 350 questo è 200 sì penso di tenere la versione processata con un raggio pari a 200 raggio 40 questo è un livello peggiore del 200 in generale perché l'effetto è un po troppo evidente ma ci sono almeno due aree che trovo davvero fantastiche il fumo in questa zona vicino al suolo e l'acqua in generale confrontiamo questo è 200 e questo è 40 alce 200 alce 40 confermo la mia impressione sull'aspetto del fumo e dell'acqua quindi vorrei usare il livello alce 200 ma mantenere alcune delle cose gradevoli che ho visto nel livello alce 40 come possiamo miscelarli beh ci servono le maschere di livello aggiungiamo una maschera al livello superiore che alce 40 la voglio completamente nera perché voglio che questo livello sia trasparente all'inizio se ricordate nell'esempio precedente ho detto che una maschera di livello per default viene creata bianca potrei semplicemente crearla e poi riempirla ma vi insegno un piccolo trucco se tenete premuto il tasto alt mentre cliccate sul pulsante della maschera di livello questa verrà creata nera invece che bianca e quindi renderà totalmente trasparente il livello proviamo teniamo premuto alt e clicchiamo ok una maschera nera che significa che il livello alce 40 in questo momento è completamente invisibile ora scegliamo un pennello appropriato piuttosto grande e morbido credo che un raggio di 300 pixel e una durezza pari al 0 per cento possano andare in caso simile selezioniamo il bianco come colore di primo piano controlliamo che la maschera sia selezionata e iniziamo a dipingere nelle aree che vogliamo rivelare così mano a mano che procedo potete notare che l'immagine cambia perché sto lasciando infiltrare delle buone dosi del livello alce 40 e se fate alt clic sulla maschera potete vederla direttamente e verificare se sono rimasti dei buchi da riempire alt clic di nuovo vi riporta alla normalità quando abbiamo finito possiamo accendere e spegnere il livello per verificare il risultato rispetto all'originale ed ecco qui senza alce 40 e con alce 40 mascherato per vedere il tutto in prospettiva dobbiamo però verificare a che punto siamo rispetto all'originale questo è alce 200 e questo è alce 40 che però appare solo dove abbiamo dipinto sulla maschera se siete curiosi potete fare alt clic sull'icona dell'occhio vicino al livello per vederlo isolato dal resto torniamo a uno stato normale abbiamo imparato come miscelare due livelli processati con raggi diversi al fine di sfruttare le aree più forti di entrambi l'effetto finale dipende in buona parte da come si comportano le aree chiare e scure e questi due aspetti chiaro e scuro sono cruciali per comprendere cosa fa alce quindi per capire il loro ruolo andiamo per un po in modalità film noir se vi va e andiamo a lavorare su un soggetto immobile quieto e leggermente inquietante che però ha comunque un aspetto umano grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti